TORCO DEMONIO NEMICO IN A RIGO NELL'AREA SPOTIFY SPOTIFY Mi ha fatto togliere C'avevo i diritti Quelle canzoni di merda Della pubblicità C'avevo nei diritti Da autore Mi ha fatto bloccarla live Porco il loro demonio Guarda spero che Minchia gli venga la diarrea A tutti quelli di facebook A tutti A tutti deve venire la diarrea Ma pensa te C'è via la diarrea Sì Sì adesso leggo i messaggi rega scusate se ci sono è sempre più vicino capito raga praticamente la pubblicità di spotify ma aveva i diritti quelle che stava mettendo e mi ha fatto bloccarla live porco il demonio adesso ogni volta che viene la pubblicità devo schipparla devo fare qualcosa non c'è veri diritti adesso devo cancellare anche il video in diretta mortacci loro vaffangulu 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 io vaffangulu Sì, 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 sì Che schifo Smettila di fare il pirata Più forte di me non riesco Io ho una potele Pirata dei Caraibi Pirata dei Caraibi Pirata dei Caraibi Pirata dei Caraibi No 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 Quando avrò tempo dove? A ottobre A novembre dicembre No Mi devo organizzare bro Non lo so Non lo so Lo sai che io gioco con i sub BAM Mi sono distratto prima Vaffanculo Ciao Ale Grazie per il like Bello Minchia Gigi appena staccato Che non ce l'ho dal 2001 Dome Minchia Ola E' BOM E' BOM Ufficiale No ormai è diventato un pro Che stupida siete dei coglionazzi anzi sei un coglionazzo dico subito gli occhi faccio cagare vabbè vai tra se vuoi giocciamo qualche game se sei on line giochiamo dimmi eh one diritti d'autore di quella merda di spotify posso dirlo spotify se è una merda spotify spotify Leonardo è una merda anche io sono on grazie per il rilike raga dovrò cancellare la live di prima perché c'è i diritti d'autore dopo mi togli la monetizzazione che agonia che agonia grazie per il light raga grazie per la Minchia, adome, lavori anche adesso Caccia sti 5 euro Due cannevra Fatti una bella subete e nerdiamo Dai, minchia Tutti nel cofanetto i soldoni Dai, cazzo Non fare lo scrigno Dai, dai Basso controllino, Ale, va bene? Sì, montai Bella, Jody Bla, 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 bla Lucida labbra La raffa Baraccio Bill Grazie per like, Fabrizio Grazie per like Oh, 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 nelle frasche Mario, grazie per like Mario, due like Mi bontano La priorità è uccidere tutti i nemici Ehi, cazzo C'è abbiamo un log? Ei, dio Ciao Una Eeeh... Eeeh... Barca, barca, uno, due, due barca Trassicurazione, bolle, revisione, il primo stipendio è bello gandato Ah, sì, tappo, mi sa di sì Un sanca me Era uno Quale, vicino a... Quella barca Traccato l'altra qua dentro Cazzo Edoardo gioco solo con i sub Con chi supporta il canale, con chi abbonato, insomma Con chi paga Con chi paga Con chi molla il cash E adesso siamo full perché ho due posti Tra altri ragazzi Andiamo su prison, tatone Aspetta, eh, lasciami i soldi Che prendono uno, a dire No, alba Vieni Lascio gli sconti, mi pare, aspetta In gana Ti ne affano C'ho Black Friday It's Friday day The Monday, Sunday 255 giorni, la Marty Oh la la Ah, che pazienza che ha Io 740 Sai atto 740 You are a monster, bro Mi raggiungerete mai Non sei quello che ne ha di più, secondo me Mi era torre Che mo' si buttano Ah, ah Molto bene Sono un'alba, eh, torre Qua Qua Non ho fatto un'alba qua No, ho smesso di sparare Oh, mio Dio Sto da cinque mesi la Marty Ole, flexa, flexa Sta flexando Marty da 353 Oh, mio Dio Oh, mio Dio Oh, mio Dio Oh, mio Dio Sono perso qualcuno Ah C'è un soldino Ah C'è un soldino ah dai che mi scavalca quando non deve nuova 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 letto tetto bravo lì un altro entrato, craccato un altro gocciotto 8 medici di support eh si, è vero anche quello una dentro qua eh, proprio dalle scale vai a un altro un altro qua copri copri ma dov'è qua? ah l'ho visto è sotto qua eh dalla porticina a basso guarda 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 qua arbor ciuccia la baciuccia anzi ciuccia la cannuccia guarda 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 per la taro guarda buongiorno no ping a prison dove vuoi andare a prison top bagni uno al basso e uno alto confermelo confermelo che mi fai rinascere quello basso che sfiga però che hanno preso me corpo 2 questi ti hanno preso quello top no no io ho fatto due po' sotto eh no lo so è sopra ancora eh lo senti ho buttato un grappolo è uscito ok il grappolo l'altro non me l'ha pingato ah si 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 è qua tipo verso Nova quasi non so se era sotto eccolo secondo l'autorex il t-rex possiamo fare di più di UAV tieni tieni andiamo a Nova un attimo l'altro è sotto basso cazzo c'è bisogno di me eh io sto ancora sul tetto è comunque una e quasi tre camion cazzo 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 caz sotto l'altro è qua precisamente secondo me dal moretto è verso nonno 2 eccolo eccolo dove dove secondo me si arrestava però non c'era facile da arrivare l'ielo già è la sinistra let's go let's go let's go let's go let's go come on brody comunque non riesco a capire l'nz tipo i primi tre colpi scioglie cioè li cracka con tre colpi dopo per mettere a terra la gente ci mette altri 27 colpi ma riesco da vincarcare perché l'hanno stranerfata fra non fa più niente suame grazie per il like dopo si mette anche serpentina ovviamente e continui a sparare avanti e che arma usi tu adesso? l'XM4? no beh rega se volete lasciare un bel follow per il monta siamo cose 3000 e dai cazzo dai 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 e adesso sto usando mi senti? no buongiorno ciao bella bro sto usando ciao rega che teschini uguali sto usando tipo il KG però il KG è lentissimo si è lentissimo a ricaricarci messe tre giorni prova al che adesso la riprovo anch'io la Cooper fra l'ho usata oggi questo è un vero me l'ho detto ti spappola eh la Cooper te lo dico carabina volksdrumberger sta bellissima ah la volkswagen dici volkswagen arriva 3000 e offre da bere a tutti è la madonna cioè offrire da bere a 3000 persone minchia una bottiglia d'acqua a testa dai ci sono lo stesso 3000 euro porca troia se no prendi 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 al supermercato che vengono 200 dai ah giusto con al bar onesto come togli il follow Matti? vatti una affangu ti fai fare da tutti quanti una donazione dai non me ne fotte toglimelo Chris ciao togliamolo tutti così non arriva a 3 nooo 8 mesi di sub toglilo pure ma sapete che ci sono ci sono gli stronzi eh rega tipo quando mettevi post arrivato a 1000 arrivato a 2000 follow me li toglievano poi mi toglievano il follow quando facevo il post no finalmente è arrivato a 2000 a 1000 oh li toglievano il giorno dopo pezzi di merda per favore seguite tutti monta e infatti adesso prima di fare il post aspetto prima che siamo tipo a 3020 3030 così anche se me lo tolgono pezzi di merda ci sono lo stesso penso a te Abdul grazie per il like dai dai raga come on guarda un attimo in bagno a svuotare il catetere arrivo non posso neanche più mettere le canzoni vaffanculo vivere il lo spi un‿ un‿ Grazie a tutti. 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 Quanti sono? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dove sono? Ok. No, da dietro. No, da... Sbaglia. No, da... Prendo. Prendo. No, da... No, da... No, da... No, da... Si può prendere. , da... No, da... No, da... No, da... , da... E... che... , da... No, da... Game over, bra... Let's go... Bene, grazie a... Per il follow. , da... 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 verso... , da... 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 , da..., da... casetta rossa secondo piano uno qualcuno ha le piastre qualcosa niente nessuna piastra noccato caso avete un bomba tiratelo non hanno due dove sta questo piano 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 parlate su dove un operato lì sopra nuova attaccato guarda uno è qua qua dove è qua si per il muretto si per il muretto siamo nella zona sicura togli l'altro ping verde togli i ping togli i ping ho trovato un punto il mio rato non lo veda muretto ma si 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 che di qua ma perchè mi fa vedere il roso il rosa che troppo di Siamo safe, è noi? Il tremoletto era morto Ok, sono con la nave Occhio Marty, perchè pucci che c'abbia la safe, l'altezza Saranno in tre lì Ah, sono in due Tutto ora Marty Sto fai tanto Bravi GG Bravi, bravi, minchia siete gasati oggi, ah raga, che succede? Ma che è sta roba? C'è Blade 9 kill Blade, raga, ma... Un universo parallelo? Che succede, oh? Montani, ti ricordo che il bot qua sei tu Che strozzo Però stai sempre sotto, vedo, anche di 900 danni, eh Eh vabbè, vorrei dirlo prima Ho 3.000 di danno, 2 kill, cazzo, non avevi 5.000 Sì, sì, chiacchiera, chiacchiera Grazie Bravi raga, belli, bravo Marco, bravo Ale, bravo Blade Bene, bello Mamma mia Che scorre Cristian Grazie 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 Bello Dai mi sa che Prego Minga vuoi te Non ho detto Cristian bot Cribot infatti se dici così non avrei risposto sono solo Cristian e il cribot ha zing dimmi quando e come va dimmi quando 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 bro non dimenticare l'am13 la metto su ma secondo me non me la farà usare sai perché se la metti nel loadout qua a volte te lo bagga proviamo proviamo l'am13 bravo dimmi quando allora mettiamo m30 eccolo qua poi una bella blixen che così facciamo un po' di salsa un po' di movement fia un bel type raga dai facciamo il type dai 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 cambiamo un po' comunque per me sei il miglior streamer di questo game complimenti e la madonna grazie Cristian che complimentone sei veramente gentile bro un bacione Tato grazie basta che lo fai prima che scadono i 3 secondi e poi ti fai ammazzare ok fatto let's go baby mi sa che faccio l'ultima raga di già di già mica mezzogiorno e dieci di già di già broski basta allenarsi vediamo se facciamo una win e faccio una bella noccia one ringrazio per il live ok allora ragazzi perdiamo eh vediamo lontardo via perfetto ti ripetiamo di più vabbè te non dovresti fare troppa fatica non ti dovresti neanche impegnare da parte ovviamente è il suo involucro ciao Ergio si vince si vince stiamo giocando molto bene devo ammetterlo sono sbalardita strano uno qua piccolo due piccolo due piccolo due piccolo sono tre a piccolo sono a grande io sono qualcuno vede di grande cosa gli altri sono tutti a piccolo tre a piccolo serve una mano a piccolo piccolo una terra piccolo l'ultimo 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 si autoressa uno anche gli altri stanno restando eh non sono tre giù non non posso non posso dai c'è chi non ha preso la squadra una squadra io dove sono parlate l'ultimo l'ultimo grande non me l'ha pingato lui può fare di un altro dio nel computer computer raga uno che guarda le scale guarda le scale sta scendendo ancora sulle scale gli altri la vedo gente dietro attende vai da aiutare contro il marty dai dovete pushare insieme raga audio audio Conclu33 2 tipi vediamo 2 dishes 2 3 2 3 2 6 10 4 5 6 7 6 6 7 7 7 prendo prison quale arma marco? era la marco si marco era la marco davanti davanti qua movimento è droppato ma io guarderei quelli da contro se avete le armi per pushare sono ancora a contro non ho niente è interessante che correva volete andare a contro o no? cosa vogliamo fare? guarda uno qua cosa? pusho guarda una mano nessuno con me proprio nessuno sotto sotto due bravi manca l'ultimo basso grande bravi grazie persico per il 75 e stellone peroschi bacione dato grazie per il conto di giro era barbie oggi per le piastre ma quelli che abbiamo appena fatto essio di strada non è entrato quelli dove c'è verso sinistra cannoni a sinistra sotto 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 tre entrati 3 3 3 3 entrati chiudi la portale chiudi la portale arrivano c'è una mano raga arrivando oale sono qua i atti mi hanno tirato sul mondo cazzo ha messo una terra cazzo di colpi si ce l'ho scritta e non ho visto è libero sopra è libero bravo 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 ma è fastidioso ma è fastidioso no 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 la spende dove c'è il camion più o meno dove non c'è il camion ma si è bloccato un altro qui uh buttano 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 attaccato attaccato un attaccato ok ok ok, gg qua tende ancora a terra ce ne sono due sei qua dentro a terra, affetto, bombarda top grande, mi sa chi è atterrato credo prima gli dice su e poi gli dice bravo cosa mi ha detto? cosa mi ha detto? no, vedi il socio Robi, ma cosa mi fai? cosa mi dici? sono tornati alla normalità ma avete visto qualcuno? no andiamo a prison eccoli, eccoli quali scalette? quelle a muro? quali c'è? c'era uno su un periodo te a blade prima lo massacri dai, fai, ma spara e poi dai bene, bravo, certo, certo è così, è così no spara, spara, dai cazzo bravo e poi da pochi lì ha detto bravo, bravo da scalette front questa ma l'avete fatto quello da scalinate? da scalette front non so uno io non so uno la mezza ho anche uno qua di sotto, eh che merda con la mina, oh guardate parlate, eh l'ho sciolto sotto la mia pancia non sei, abbiamo fatto la mina no, ce li ho qua bravo se sotto sotto voi ok, ok siamo 4 v2 ok possiamo fare un uovi niente 26 metri front a me due forse sono tetto forse sono sopra no no, qua dalle grate 4 v2 4 v2 1 l'altro secondo me è top sì 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 è top 4 v1 vado io top si butta è tanto prendiamoci noi il muro blade bravo tg let's go baby don't try this shit let's go non challenge la multa ins gang game over bro game over let's go go out bravi raga l'ho l'ho sbaccato l'abbiamo sbaccato me la vibrai grazie grazie adriano gentilissimo grazie per il complimento raga vi ricordo che se vi fa piacere di lasciare un bel follow un bel segui al monte dai che siamo quasi a 3000 dai 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 let's go non è male nello l'M13 marica finisco più o meno per mezzo adesso ne faccio ancora una finchè non perdiamo appena perdiamo stacco l'M13 non è male non è male e fu così che nuovo record mondiale 180 wind in fila eh sì 3000 e fu così che si andava avanti fino alle 5 del pomeriggio sì cheat morti a casa cheat morti in volio da un cheater sì da blade il cheater ragazzi è lui eh già ma la martina la sento dal 43 avanti christ sì ci sono c'è che mi sblocca tutto ah ok è timida ps4 science 2000 ormai è da brullare proprio no non penso marica di andare al mare sono troppo nerd per prenderlo d'out ci metto 10 secondi eh ma sai che anch'io da pc mi mi si blocca è proprio sto gioco che fa cagare è incredibile proprio è tranquilla che perché tranne di sto gioco è un soggetto sistemato di braccia grazie matti per la condivisione bello ho per il tuo id come facciamo Te lo mando Adesso Vediamo Aspetta c'è così Porco Ah scrivi punto esclamativo ID Aspetta Ci dovrebbe essere qua Vediamo Ma vai vai Blade vai vai Vediamo se è bene fuori Ma la trova? O non la trovo? Eccola Eccolo lì E' uscito Arrivate Maiuscole e minuscole così Prego Nello grazie a te Dai riprovi a mettere di cipar benino Nel hype Bella Daniel Sun Grazie per il like Brusciore di chiappa No mi spiace Mi piace Non ti piace Non ti piace vedere tipo Matrix Teletrasportarti Alla go Wow Inizia la vera battaglia Inizia la vera battaglia Ritur 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 Dai raga, come on! Oh mio Dio! C'è un codice in me Due, due, tre, 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 tre Eeeh Tutti i bassi, tre bassi Grande Che schifo di arma, Marti, buttala via Ho preso la Lidl, quell'arma Vado a tenda raga dai, lì non c'è più loot C'è, ce l'hanno da ora Dai, no, no, santo! C'è vento al astro, cazzo! Ti confino a venire in mano Si, mi di sotto Continuavo a cambiare arma, mi sento sempre Staventare l'astro, l'ultimo per mettere l'arro L'interessato Guardate che mi viene in mano Dai, è un SMG Cristo, però! Andiamo a fare l'Adi Un attimo Un attimo Un attimo Ce l'avete? Dopo io Eh, soldi, soldi raga Un attimo 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 questa è la prossima allerta se volete batteria nemica avvistata crackati due no no ma io userai per conto che poi andrai su come sempre che dite andiamo a casa grande oh cazzo vai qua lo denso io un altro sotto uno dei cannoni a sinistra dalla strada ho visto uscio ah va via 222 mi serve una mano fronte a me dai cannoni piccatelo 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 eh guancho frita io andare grazie ce n'erano due qua sotto lo avete fatti? no credo no ok andiamo contro non mi pinga nessua eh niente a me da sopra eh fatelo a v raga orca 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 aspetta 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 qua qua un attimo arrivo non attende non vedo sta entrando sta entrando sta entrando in control terra bravissimo fatto io andrei verso priso qui sopra io andrei verso priso raga mamma mia quanti oh mio dio t'ho preso non ho sparate venite venite su del spirito con me per favore mamma mia nooo prende una mano fronte a me due c'è una volea del faro spostiamo andando al faro ii la madonna oh vabbè regal m13 di cazzo eh vabbè regal m13 di cazzo eh Da dietro, Blade! Ah, l'hai fatta. Eh, ma è a terra, quelli. Però, però. Ah, ok. Infatti, non so perché mi pingava, ma lei è a terra. Come se mi stessi mirando, era a terra. Quanto è? Giù? Quanti? Meno due. Eh, da lontano più campo c'è. Pingo due qua. Fallo. Quanti erano? Due. Due. Mi piccano. Mi pusciano. Ecco arrivo, Iaki. L'altra lì sotto a te. Sto pestrando, non ci sono. Beh. Non sento i colpi a me, bro. No, ma anche a me, a quella non mi entravano. Io dovevo a me due. Ok, arriva un altro team, arriva un altro team. Cod'è andato? Cod'è andato? Cod'è andato? Cod'è andato? Dai, ne manca una! Bravi. No, si è arrestato! Eh, ma non dobbiamo andare. Eh, ma non dobbiamo andare. Ladone! Ma qui è! Non ci va sempre. No, ma qui è andato a te. Incavo, lo devi fare tutti, ragazzi! Ma che è uffo? Eh, cazzo! Eh, se le trasportano... Ivan, grazie per l'hack, tato! Ah, questi qua sono un autoresso? Io me lo farei, eh? Ah, c'è proprio il di vivo Control, oh my god Chi viene con me? Uno sta salendo Spaventato Uno spaventato Fini tre, Yaki Eh, vabbè, qua Qua ho detto, non ho scritto Del ponticello Grande, grande Due, grande Piccolo? Eh sì, scusate Piccolo, mamma mia Piccolo Ho fatto io questo Due flyer Due flyer Uno qua Dalle scalette per andare a nave La pinga fin rosso E' entrato, è entrato No, raga, ancora lì da mia pinga Pinga hai detto questo? Sono due lì dell'hot out che lo vedo Marti, occhi 3 a 3 Occhi a sopra prison Vabbè, immortali sopra prison One shot Adentro sono due dimmer Eh, vaffanculo va A terra sopra prison uno Dalle scalette a muro Dalle scalette a muro Il di vento è un'altra 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 Uno per me Un'altra dammi i soldi marty dammi i soldi De sotto la torre nella casetta le c'è ci sono armi Lancio bombo No da me ai bagni il quartiano Vini su vini su vini su alle vini su Se sono problemi quanti ci sono Eh non ti si sente fra se hai la voce che sembra quella boh 3v2 eh Prendo nonno C'ho nonno Vedo se escono eh Occhio che ci muori così eh Non starmi davanti blade Everybody Ha crackato 1, ce la trovo GG Don't rari She Ehi, tettoooool Hot hole Hot hole A casa Top army negro Let's play like big brass game 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 fucking over, bro No cap, bro No cap G Motherfucker G E dai, ragazzo, spandigigi Chatete Let's go Come on time Let your beer Goodnight Is the sound of the police The sound of the police Bella Cristian GG Where? No, vabbè Finchè non perdo Io vado Cioè, non so, boh Ok dai, fino a 5 di pomeriggio Allora Eh, la madonna No, io posso massimo fino alle due No, vabbè, ma Nel caso morirò opposta, vi metterò in difficoltà Facendo le cose sbagliate, così moriamo tutti Sì Sì, non ne prendo una raga Non ce la faccio Sì, non ne prendo una Sì, non è che mi ha vinto grazie a te adesso, eh Senza noi, dove si perso tutte le partite Ah, cagare, va Poglio qualcosa c'è da ridire Spagliate Ecco il mio incontro E poi in realtà eravamo tipo apriso Eh, quando vado su di giri Ci capisco più di niente Puoi risolvere Dicendo sempre qua da me E' classico Qua, qua, qua Dove? Qua, qua Ficchia Mamma mia che caldo sto PC Inizia a buttare un po' troppa Arie calda fuori, eh Eh, mi va bene per l'inverno Minchia Comunque la carabina è pentacolare Eh, te la godi? Porca droga Ormai è sempre stata folle la carabina Tutto Che altro? È sempre stata forte Ma ci sono sempre state armi Dopo che l'hanno superata Mmh, sì Quindi ci usavano quelle, ma Vabbè, ormai tutte le armi sono state superate Cioè di base tutte Sono forti A parte lo SCAR Sì L'unica arma che è stata sempre concessa È lo SCAR, raga Cioè non è mai stata forte Mai No Lo SCAR veramente Ha sempre fatto cagare Sempre C'è mai un nerdy Ma andai a far cagare Sarebbe anche forte È che è lenta Fra è che c'ha tipo Sì ha anche 20 colpi Nel caricatore 30 tipo ne ha Un assalto con 30 colpi Eh vabbè ma con cazzo Con 5 colpi sciotti Beh Ho capito Ti becchi Sì ma comunque smiri quando spari Non è che c'hai limelock sulla gente Che f5 colpi li becchi sempre Ah vabbè Eh ok Un caricatore fai una persona Al limite Ce ne hai già due No vabbè ma c'è uno bravo Che ha una bella mira Che ha una bella mira Eh piuttosto adora l'Oden Eh Per dire Ma non lo sai Cioè Cioè Almeno l'Oden Da anche radio basso basso Awpra um Epo Epo Ugo Epo no almeno i macchini ho fatto uno sul tetto uno sul tetto c'è un altro che si può più in buccia due ancora uno stai restando ce l'hanno taglia a tre ancora la taglia datemi i soldi che faccio l'addio due che cosa è dal tetto forse col podiere pt non so da dove mi mirano mi mirano mi mirano da nave dal muretto dal muretto occhio anche da sinistra dipende al muretto muretto fatto uno due a terra al muretto cazzo no vabbè dai eh marty cazzo 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 guarda che roba ma chi è budino è budinisti forse bravo però la prima locata non lo so però questi stanno scappando vediamo vediamo magari è solo bravo no non gli entrano i colpi sta l'obb è strana no no potrebbe sembrare che osma secondo me sta l'obb è che sframma che laggia e fa vedere cose strane vieni qua vieni qua no no è sta l'obb è che sto schifo io gli ho sparato sta scappando gli ho sparato magari ha avuto la fill andiamo a nuova che dite che fama top nuova top nuova come stai antoni qua in mezzo alla strada guarda è quello è quello che l'ho fatto era lui no ma adesso io mi chiedono a 9 uno lo dà ma fai che cosa gli ho fatto a questo ragazzi mi vedono che cosa gli ho fatto a quello ragazzi bravo mi hanno colpito mi hanno colpito dov'è sul tetto ti ha butti in ispi ancora ragazzi no magari sono bravi eh no locca 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 terra sulle scale dai dai si si fai quello fai quello martedio dove 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 lo avete fatto no non lo vedo eccola c'è l'evento dove stai ale vipa 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 beh vipa c'ho il loadout in mezzo al cazzo niente era quello certo antonino dopo i viti ma per loadout ma fai a culo va hai lasciato i soldi che facciamo un po' tutti le auto res ma porca non siamo i pari caduti ma che gioco di merda casa grande casa grande casa grande ale ci sono i soldi però per farci le auto res è tutto cazzo arriva 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 che sopra alle le auto sto tutti lì di cafe oh cazzo va vai monata sopra ce l'ho d'altro d academia eh l'ho vado vado con u подт ma ancora sto budini ci pare da terra qua cazzo è vero bussare questi qua marty che sono anche quelli è una casona non era del team di questi qua no no full team a casona appena di getta nuova sono da solo a pushar qua a casona però mortacci i ragazzi alia devi venire qua per favore serve una mano c'è un team che mi corre dietro potremmo andare subito in safe e fanculo questa raga ditemi voi forse ci conviene si andiamo da una nuova e gli altri di questo qua andiamo a nonno mettiamo nonno dove andiamo a nonno vai 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 restati restati però c'è uno qua cazzo a terra uno sopra nuova ci avete i soldi per restare uno arrivano altri arrivano altri i soldi ma c'è uno due cento ma c'è uno due cento ma c'è uno due cento ma c'è uno c'erano soldi con fuori qua 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 hai i soldi hai i soldi che lo sa faccio una nuova sto arrivando eh guarda lì dai guarda lì dai blade dagli solo un occhio non piccare però dagli un occhio non piccola grazie per like posso andare a giardino un ottobietto di nuova draccava ha fatto una pettina di merda vabbè dai qua è assurdo dai che è facile da male dove l'avete visti raga la nuova ancora nuova sta facendo il giro tipo qua c'è un nemico va bene va bene calma calma raga andiamo a prison andiamo a prison prendiamo prison raga subito 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 non fate i giri strani andiamo qua che gliela del mille è ancora più vicino dal mille al gas prison top eh dove erano sopra torre avete detto sono qua movimento uno era pieno di torre non ho cattu uno lì ale ok sono tre contro uno che è il bagno gg oh my god bruh oh stiamo dicendo tutto eh uuuu vabbè stiamo trajardando come dei minchia mattia grazie per il like bello madonna raga boh dai è luna basta dai se no figa minchia e invece no devi furgare finchè non la perderemo ma quanto ne abbiamo andato dico quattro di fila dai ragazzi ma è successo dico ma ci sono le cinque porca miseria le vincete tutte le quando vi guardo mamma e si vabbè stiamo siamo qua con l'asciugamanino il ghetto raid però eh eh no finchè non perdete si gioca non posso raga devo andare a studiare abbiamo portato un buon contenuto però non pensavo durassimo così tanto MVP per lamarti ragazzi mamma mia pro game matti costruito quanto ne abbiamo fatti mattia grazie per il like cinque cinque? in fila si perché ero 611 di sabato wow uau grazie grazie respect uomo dai rega io stacco grazie per il game siamo stati super bravi complimenti rega adrian grazie per il follow alla prossima bella rega buona giornata ciao ciao buon pranzetto ciao 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 belli ciao ciao adrian grazie mille per il follow non lo sono meritato dai rega io vi ringrazio per la compagnia spero vi siate divertiti noi ci becchiamo sempre domattina sempre dalle 9 sempre dalle 9 fino a mezzogiorno più o meno va bene mezzogiorno luna vabbè gli orari sono sempre questi io vi ringrazio vi auguro una buona giornata e un buon pranzetto va bene bella rega buon weekend bella rega se vale bene me lo mostri M13 certo aspetta eh tieni brotherhood M13 eccola eccolo rega ugo grazie per il live M30 bro prego raga mi raccomando godetevi questa bella giornata o sennò nerdate come dei draghi let's gooo ugoo 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 ugoo